È una giornata fantastica perché la gara ha registrato il sold out di partecipanti nonostante la stampa di 200 pettoriali ulteriori e quindi abbiamo toccato quota 1.100 con i competitivi e pare 1.500 con i non competitivi, un record assoluto. L'evento è duplice perché è la giornata per l'autismo ma per noi è naturalmente anche la giornata in memoria albiridiana che come avete visto e grazie a tutti della partecipazione credo di poter dire abbiamo onorato nel migliore dei modi. L'evento si abbandona veramente, quindi rimane nel tuo ricordo forse è giusto, vengono a uscire nella mente e nel cuore di chi l'ha con la sua. Ciao, ciao, ciao.